Siamo entusiasti di essere coinvolti in questo grande progetto, vi aspettiamo tutti a festeggiare i gialloblu, tutti i gialloblu insieme per le strade di Verona. Il 30 aprile alle 9 allo stadio. Signori, 30 aprile, il giorno prima di Verona-Vicenza, non è una data qualunque. Io sono un ex corridore che avrebbe ancora moglie di correre, per cui correrò, gli altri camminano. Però ci sono, ci sono tutti gli amici ex del Verona e spero con tutti voi. Ci vediamo domenica. Grazie a tutti.